Questo pomeriggio abbiamo segnalato a Trento diverse case spitte per dire a tutti, per dire alla città che è una vergogna che ci siano appartamenti spitti in un momento in cui le persone non riescono ad arrivare a fine mese, per dire a tutti che la casa è sempre più un diritto. Non è un problema di ordine pubblico, siamo qua sotto, sotto la sede del commissariato del governo, anche in solidarietà con gli attivisti di Roma, con Paolo e Luca, che sono stati arrestati perché lottavano per il diritto all'abitare. Siamo qua anche per dire che non ci spaventa che Renzi sia al 40%, perché siamo la vera voce critica a questo governo che ha fatto una campagna elettorale sulle spalle dei precari, dei disoccupati, degli esodati. E allora siamo qua oggi anche per dire no al decreto Lupi, no all'articolo 5, per dire che la casa è un diritto per tutti e tutte.